Ehi ragazzi come va? Io sono Fereniki E io sono Steph e questo oggi giocheremo a Rocket League Viste che Fereniki in certi giochi non vuole mai giocare con me Ho deciso di insegnarle a giocare Che evento guarda che evento Devi essere felicissima e inizieremo con Con Rocket League L'obiettivo del video sarà riuscire a vincere una partita 2 contro 2 Con io che non potrò superare la metà campo E dovrò soltanto parare Quindi Fereniki dovrà pensare ai golli della squadra Ma prima di tutto Dobbiamo fare un po' di allenamento Sei pronta? Non tanto Hai fatto una bella colazione? Un po' di pane con la nutella? Assolutamente no Ma devi essere in forza perché sarà un allenamento faticoso Il primo allenamento che dovremo fare oggi E' questo pronta? Ahah Ok Che cosa sarebbe? Devi cliccare X e poi tenere l'analogico sinistro verso il basso Prova Ok bravissima Le giravolte Adesso una cosa un po' più complessa Di lato Un delfino stai diventato Vai prova Devi No 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 Aspetta Allora la prego di prendere seriamente questo allenamento perché è importante No ma Se tu riguarda il mio perché ti stai perdendo qualche dettaglio Ok Ok Sì Vedi? Non ho capito niente È un po' diverso Non ho capito Guarda Brava brava ci sei quasi Ok seguimi Siamo alla seconda parte dell'allenamento Allora la prima cosa è stata utile sì? Hai capito come usarla in partita? Sì Guarda Ok Bravi Brava brava Sì 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 Ci siamo Adesso seguimi Praticamente devi No prima stai così e guardami perché questo Tanno un po' indietro Ok Questo è molto pericoloso quindi mi devi seguire bene Allora bisogna salire sul muro Poi praticamente sali un po' Giri Ok E poi ti fermi così Questo si chiama L'albero sul cucuzzolo Ok No no Allora ti ricordi il primo allenamento? Sì Fammi vedere Ok Praticamente devi rifare la stessa cosa Ma ti devi fermare a metà Così Ma questo mi capita sempre Vai Ok Adesso Praticamente Vedi con l'analogico puoi girare Non devi premere nessun tasto Solo l'analogico Vedi come giri Ok Ok E adesso premi cerchio Perfetto Serve a confondere gli avversari Questo vero Perché non solo aspettano Vedi Che tu arrivi girato Così capito Stai migliorando Pensano che sei FK Invece poi fai così Guarda Vuole e segni Bravissima Bravissima Hai finalmente capito Per forza Quando giocherai Devi ricordarti una cosa Non è frustrante sbagliare i gol Perché quando segnerai Metterai dentro a quel gol Tutti i tuoi fallimenti E quel gol varrà ancora di più Quindi mi raccomando Da qualche parte questa Ricordati tutti All'allenamento Che abbiamo fatto E vai Corri come una saetta Vai Corro Corro Bravissima Guarda l'ho già presa Ok Ho visto Eh ma loro l'hanno ripresa Allora para E tirala al centro Vai Organizziamoci Ok Non facciamo le cose Visto che io non posso Superare il centro Ti farò palle lunghe Così tu puoi Andare ad attaccare Stiamo allagando Probabile Sì Ok 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 È tutto a posto È tornato È tornato Ma fai gol tu No non ho segnato È il tuo tiro È il tuo tiro Vado Bravissima Guarda che bel tiro Che mi hanno parato Con quanta potenza Questa va al centro Questa va al centro Vado Uuuuh No non ci riesco No no non ti devi È troppo difficile Non devi demolarizzarti Ma dai che c'è Vuoi cercare di consolarmi Manco le parole Se dire guarda Sei un pessimo insegnante Ma quando mai Sei l'insegnante più pessimo Che abbiamo mai visto Con tutti gli allenamenti Meravigliosi che ti ho fatto Ti uccido Vai 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 Corri 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 e spingi Corri e spingi Ma non lo so fare Concire Come l'ha insegnato Come l'ha insegnato questo Il primo allenamento Cosa è servito allora Ah niente Ecco Cosa è servito Niente Allora Io te la mando da te Ok Vai E quindi E quindi ti giri E tiri Uh Ho sgommato Wow La vedi Questa è la Vado 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 Guarda Allora Ripleyma la coda Guarda Di lato Guarda Ti ho scritto Bel tiro E grazie Come si dice grazie Sinistra Destra Davvero Sinistra Destra Grazie Vai 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 Vado Bello Stortissimo Non è giusto Guarda 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 Altro gol Questo era bellissimo Perché guarda Eri di lato Ti sei retrizzata E l'hai mandata Verso il centro È la tigre Non sono io Vero Sì Si in possessa Del tuo corpo Esatto Della tua macchina Uh ma non abbiamo finito È finita Sì che finita Cinque secondi Allora Ok Sono soddisfatta Della tua prima giornata Se continuerai Ad allenarti così Guarda cosa riuscirei a fare Cosa stai facendo Eh Ma non mi hai insegnato i gol Non mi hai insegnato Come tirare la palla Allora Guarda bene Ok Non c'è nessuna tua tecnica Non ti ricorda una cosa Ma niente Adesso ti faccio vedere Guarda Adesso ti ricorda qualcosa Vedi Se tu migliori questo Però facendolo dritto Segni Capito Non è vero Certo Nessuno gioca così Non è vero Esattamente così Guarda Vedi 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 Questa era Sei un buffone È un allenamento bellissimo Sei un ciarlatano E addirittura Ti voglio i miei soldi No Non puoi averli Beh ragazzi Il video finisce così Se vi è piaciuto Lasciateci un bel like E se è la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi Di altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!